I segretari di Filctem Cigiele Antonio Perseo, di Wiltec Wil Deborah Del Fiacco e della Femca Cisl Leonardo D'Addazio chiedono con forza il ritiro della procedura di licenziamento e ripristino di un tavolo negoziale per trovare soluzioni alternative per 24 lavoratori dell'Abrioni di Penne. Vogliamo che l'azienda si impegni a riqualificare ulteriore personale, oltre alle 25 maestranze che sono state già dibite a nuove mansioni, ricordano i sindacati, evidenziando che dal 2009 ad oggi si sono persi più di 700 posti di lavoro e che la maggior parte dei dipendenti percepisce un salario molto inferiore rispetto al 2016, avendo visto diminuire l'orario contrattuale e l'integrativo aziendale. Abbiamo proclamato lo stato di agitazione, ricorda il segretario D'Addazio, e se non ci sarà l'atteso incontro con l'azienda, anche un'eventuale mobilitazione con un pacchetto di otto ore di scioperi. Siamo preoccupati perché ormai dal 2009 la situazione è la stessa, continua con riduzione d'orario, riduzione del salario, soprattutto su una platea dei lavoratori, perché dobbiamo dire che un'altra platea dei lavoratori in passato e ogni anno nel mese di marzo invece fa la salary review, cioè nel senso che ha addirittura aumenti di stipendio, mentre la stragrande maggioranza dei lavoratori perde parte dello stipendio e rischia il posto di lavoro. Questa cosa non può andare più bene, adesso siamo arrivati ad utilizzare, cioè l'azienda è arrivata ad utilizzare uno strumento che mai prima è stato utilizzato con questa forza e con questa precisione, e questa cosa a noi non sta bene. Ovviamente ci siamo pronti alla mobilitazione, abbiamo proclamato lo stato di agitazione, questo mette in allerta i lavoratori in modo tale che devono rispondere presente nel momento in cui andremo a fare sciopero, perché dobbiamo capire che quello che sta succedendo oggi a 24 lavoratori può succedere in futuro anche ad altri. Oltre alla mobilitazione e quindi agli scioperi cosa intendete fare? Noi dobbiamo avvisare che la comunità vestina soprattutto deve essere al nostro fianco, perché l'Abrioni fa girare l'economia di tutta un'area, non è una sola parte, perché anche in passato, quando è successo nel 2016, siamo riusciti a coinvolgere anche le attività commerciali, le istituzioni e tutte le attività che sono nella zona. Deve succedere la stessa cosa e quindi chiederemo l'attivazione anche di tutta l'area.